Ciao, sono Rosita Lipari, una fotografa di matrimonio professionista. La mia terra natale è la Sicilia. In questi giorni di shooting ho apprezzato tantissimo questa macchina. Mi sono divertita a lavorare e a scattare con la Nikon D850. Sono rimasta veramente impressionata dal nuovo bilanciamento del bianco e da quanto sia preciso e veloce l'autofocus. Anche in condizioni di luce scarsa o in controluce la macchina non perde neanche un colpo. La cosa importante è che Nikon sia riuscito a mettere tutto questo in un corpo leggero, compatto e ergonomico. Grazie a tutto questo siamo stati in grado di scattare delle immagini straordinarie che dimostrano la capacità di questa macchina di scattare in modo veloce con file ad alta risoluzione. Sono sicura che l'amerete anche voi. Grazie a tutti.